Signori, buonasera a tutti! Ci siamo, stiamo per partire per decollare, il caccia bomb è pronto. Abbiamo fatto rifornimenti ai selbatoi, i missili sono tutti a posto. Sta andando bene questi giovani, devo solo dormire. Buongiorno! Ho chiesto gentilmente alla hostess quando giudeva l'imbarco, mi ha detto subito perché sennò il Pullman parte, però era per Roma l'aereo. Quindi quando ben si inizia si è a metà dell'opera. sui passi! Sui passi! E lo guadaglio! Ma quest'anno sui passi! Sì, la guadaglio! Grazie a tutti.